Nel giorno in cui il Premier Draghi porta in Consiglio dei Ministri la riforma delle concessioni balneari a Roseto, si è svolto un incontro organizzato dal Sib Conf Commercio Abruzzo, alla presenza degli operatori del settore, associazioni e sindaci costieri della provincia di Teramo, con all'ordine del giorno l'aggiornamento sul tavolo tecnico con il Governo, in merito al riordino del demanio marittimo e sulle audizioni parlamentari tenutesi nei giorni scorsi. L'occasione è stata anche quella di affrontare le numerose problematiche del settore, soprattutto visto l'imminente arrivo della stagione estiva, a distanza i due anni dalla pandemia. Oggi questo incontro si pone a livello temporale veramente in una maniera congrua, perché oggi è stato annunciato al Consiglio dei Ministri un emendamento del Governo. C'è da dire che partiamo subito male, perché erano già stati promessi tavoli tecnici e quant'altro, però il contenuto di questo emendamento è sconosciuto ed è sconosciuto anche al Ministro di Riferimento, Garavaglia, con cui noi parliamo quotidianamente e questo sicuramente non ci fa ben pensare. Una proroga oltre che improbabile è impossibile, nel senso che la sentenza del Consiglio di Stato parla molto chiaramente che le proroghe non possono essere più date neanche da una legge, quindi di proroga nessuno vuole una proroga, neanche noi vogliamo una proroga. Bisogna fare una legge per il riassetto generale del demagno, ma anche di altre attività, perché come sapete la Bolkestein non riguarda solo la nostra categoria, ma ci sono altre categorie interessate. La questione dei balneari non può essere una questione ideologica. La questione dei balneari va affrontata attraverso una riforma, attraverso un ragionamento che va fatto insieme alle associazioni, ai portatori di interesse, dico alle associazioni degli imprenditori, non ai comitati dei condomini, va fatto insieme alle regioni e va fatto insieme ai comuni, infatti oggi sono i comuni. Perché? Perché poi sono loro il front office dei problemi. Se si apre un contenzioso, non è che non lo andiamo a fare con Draghi, che molto per me non ci interessa, ma lo faremo col primo cittadino del territorio, da primo cittadino poi al Presidente della Regione e via di vicenda. Immaginiamo uno scenario del genere, significa far morire il turismo balneare. È un momento molto molto delicato, solo tutti uniti possiamo vincere, quindi ovviamente dobbiamo convincere il governo della giustezza delle nostre motivazioni e che il nostro modello turistico non è assolutamente da buttare. Cosa possono fare gli operatori oggi? Beh, indubbiamente essere uniti e convincere i loro sindacati a portare una linea convincente che il governo prenda per salvaguardare il nostro modello turistico.